. Nancy Brilli single, sorpresa con l'ambasciatore del Belize, 600 grado uomo più ricco del mondo. Nancy Brilli single, sorpresa con l'ambasciatore del Belize, 600 grado uomo più ricco del mondo. Nancy Brilli. La situazione sentimentale però potrebbe non durare troppo dato che Nancy è stata sorpresa da Novella 2000 mentre trascorre una serata a Roma con un cavaliere galante. . Si tratta di Alfredo Dangeri Puppi, ambasciatore per gli affari europei del Belize, ex braccio destro di Arafat, è il 600esimo uomo più ricco del mondo, che nella sua collezione di auto conta anche 23 Rolls Royce. . 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